A marzo il debito pubblico è diminuito di 15,8 miliardi rispetto al mese precedente e si attesta 2,431,1 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia. Il fabbisogno del mese a quota 28,7 miliardi è stato più che compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del tesoro e dalla variazione dei tassi di cambio. In calo a marzo anche le entrate tributarie, che sono state pari a 27,5 miliardi, in diminuzione del 4,4% rispetto al corrispondente mese del 2019 per effetto della sospensione dei versamenti fiscali disposta dal decreto Cura Italia.